Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo video di Q&A. Nel video di oggi andremo a rispondere alla seguente domanda. Come si usa il rifrattometro? In realtà anche in questo caso credo di aver completamente trascurato il tema nei video precedenti, quindi andiamo a vederlo insieme perché utilizzare il rifrattometro è davvero semplicissimo. Il rifrattometro è uno strumento che si usa per misurare la salinità dell'acqua e a prima vista sembra una specie di cannocchiale. Per utilizzarlo non dobbiamo far altro che mettere delle gocce d'acqua sul vetrino anteriore tramite una pipetta che di solito viene data in dotazione e poi richiudere il coperchietto facendo attenzione che non ci siano bolle d'aria incastrate tra il vetrino e il coperchietto. A questo punto andiamo a guardare all'interno della lente dove dovreste vedere qualcosa di molto simile a questo e cioè due scale graduate, una a destra e una a sinistra e poi un'area blu che divide la visuale orizzontalmente in due parti. Adesso la scala più diffusa e più semplice da utilizzare è forse quella sulla destra che esprime i valori in millesimi o ppm e quindi se per esempio volete raggiungere una salinità di 33 ppm e cioè 33 grammi per litro non dovrete far altro che aggiungere sale all'acqua e continuare a testare l'acqua tramite il rifrattometro finché la linea blu raggiunge appunto il valore di 33 sulla scala a destra cioè quella in millesimi. In generale è buona norma sciacquare il vetrino tra una misurazione e l'altra possibilmente con acqua filtrata ad osmosi inversa o comunque con acqua non salata e questo per evitare che comunque dei residui di sale rimasti sul vetrino vadano a falsare la misurazione tra un test e l'altro. Un'altra cosa da ricordare per il primissimo utilizzo è che il rifrattometro va tarato e questo significa che per il primissimo utilizzo dobbiamo andare a testare delle gocce d'acqua filtrata ad osmosi inversa invece che acqua salata. Chiaramente sappiamo che l'acqua filtrata ad osmosi inversa ha una salinità di 0, cioè 0 ppm e quindi andando a guardare all'interno del rifrattometro dovremmo vedere che il rifrattometro indica appunto 0 ppm. Se così non fosse tutti i rifrattometri hanno sulla parte superiore una piccola vite che serve a tarare il rifrattometro stesso. Quindi dovrete svitare o avvitare la vite fin quando la linea blu indicherà 0 ppm. Detto questo siete pronti per iniziare a testare la vostra acqua? Io spero che questo video vi sia piaciuto ma soprattutto che vi sia stato utile. Noi ci vediamo prestissimo con tanti nuovi video. Ciao! 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 Ciao!